Il corso si rivolge prevalentemente a filmmaker ma anche a performer e sceneggiatori. Il corso analizza quella che è la figura del filmmaker del terzo millennio, quindi un filmmaker pronto ad accettare le sfide di quello che viene definito New Cinema, cioè un tipo di cinema che si contamina attraverso l'uso e anche la trasmissione, il broadcasting all'interno di piattaforme televisive come Netflix, Prime e tante altre. Ovviamente durante il corso si faranno una serie di esercitazioni pratiche che condurranno poi alla realizzazione di piccoli progetti, piccoli cortometraggi che poi chiaramente potranno anche essere un veicolo per cominciare una carriera, quindi da inviare a festival e quindi l'obiettivo finale è quello di formare un vero e proprio filmmaker.